Salve a tutti ragazzi, qui è Shaz97 e come avete visto una nuovo intro fatto dal mio amico Killer e qui vediamo un gameplay di Call of Duty Ghost su zona di lancio un po' vecchio intanto che aspetta la Playstation che ritornerà tipo lunedì quindi a seguire guardiamo il video Grazie a tutti Andiamoci dentro Andiamo in vantaggio Contatto, passarello blu, bersagli multipli Grazie a tutti Approvvigionamenti nemici in arrivo Abbiamo perso il sgomando Approvvigionamenti nemici in arrivo 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 Poggiamenti nemici in arrivo Approvvigionamenti nemici in arrivo SANTCOM, alleato attivato. Siamo in vantaggio! 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 Siamo in vantaggio!